che bella piazza stradivariche però al solino è uscito un po' di sole si eccolo lì cameriere si si è vero che è uscito il ghiacciolo al prosecco si sto aspettando una mia amica nel frattempo me ne può portare uno grazie ciao ragazzi nel frattempo visto che inizia la settimana con il caldo come si dice a cremona ascoltiamoci le previsioni per la prossima settimana previsioni per la settimana prossima arriva l'alta pressione annibal soprattutto al centro sud prima zampata dell'anticiclone nord africano il quale farà schizzare i termometri ben oltre 30 gradi al sud fino a 38 gradi in sicilia tempo tratti instabile al nord con precipitazioni soprattutto sull'arco alpino prealpino e a spasso per la pianura padana temperature in aumento su tutte le regioni ah che buono il gelato il ghiacciolo al prosecco non è proprio un gelato però è bello è bello è veramente buono ve lo consiglio adesso quando arriva l'immigra prendo un altro andare stasera siamo a posto ragazzi e finalmente il caldo è arrivato ci avviciniamo ai 30 gradi ci avviciniamo al mese di giugno e ricordatevi però che su crom tv spende sempre il sole a presto ciao 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 ciao